Dobbiamo rifugire delle vecchie ricette, i vecchi indirizzi di politica economica e sociale li abbiamo sperimentati negli anni. A questo punto abbiamo acquisito una conoscenza sul campo, che le logiche neoliberiste dell'austerity non ci hanno fatto crescere, anzi ci hanno impoverito. Abbiamo anche delle tracce da seguire, perché pensate, nel periodo più duro, quello che avrebbe dovuto vederci soccombere sul piano economico e sociale, come Italia ma anche come Europa, perché ricordiamoci che la crisi pandemica è stata una crisi del mercato comune europeo, se la guardiamo dal punto di vista economico, e non del mercato italiano. Perché stiamo parlando di ormai filiere produttive, stiamo parlando di rapporti e sistemi di mercato così intrecciati e integrati, che l'abbiamo sperimentato, nessuno può pensare di salvarsi da solo. E che cosa abbiamo fatto nel periodo più duro? Abbiamo elaborato una risposta comune, sufficientemente tempestiva, forte e coraggiosa, Next Generation EU. Quel piano europeo, da oltre 750 miliardi di euro, di cui più di 200 destinati all'Italia, un piano che il mio ultimo governo a contribuire con la forza politica, come è stato ricordato, del Parlamento e in particolare il Movimento 5 Stelle a costruire, ci ha consentito, lavorando in quei mesi drammatici del marzo e dell'aprile 2020, di proteggere l'Europa da quella che si è rivelata subito una pandemia oltre che sanitaria e economica. Noi non possiamo tornare al patto di stabilità per come l'abbiamo conosciuto, non possiamo permetterci un ritorno al passato quando alle crisi si rispondeva con i tagli alle spese sociali. Quello, così e come è stato formulato in passato, si è rivelato un patto di stabilità, di tanta stabilità e di scarsa crescita economica. Noi potremmo pervenire a un patto di crescita economica e di sviluppo sociale nel segno della stabilità. Il Movimento 5 Stelle ha questo merito di essere stato in prima fila, all'avanguardia, con coraggio e determinazione, a delineare nuove ricette, nuove ricette che io ho sposato in modo convinto. Ecco allora, non più la regola del 3% del debito del PIL. Il Next Generation EU si è basato su uno strumento finanziario, sullo strumento del debito pubblico comune. Lo dobbiamo rendere strutturale, dobbiamo essere chiari. Strutturale non significa che ogni anno attingiamo da un piano finanziario così ingente, significa che lo teniamo nel cassetto, però è disponibile e può essere attivato alla bisogna in caso di crisi che dovessero rimanifestarsi e non dobbiamo stare lì a costruirlo ogni volta. Quindi determiniamo una volontà politica che oggi, per domani e per sempre, abbia a disposizione lo strumento da attivare ricorrendo precise circostanze emergenziali. Questo significa una politica avveduta per noi, per i nostri figli, per le prossime generazioni. E poi, avete sentito anche, ne ho parlato anche io nei giorni scorsi, l'Energy Recovery Fund. Abbiamo lanciato questo progetto. Questo è un programma specifico, ovviamente, che si attaglia molto più puntualmente a quella che è la crisi energetica in atto. Anche questo è uno strumento da finanziare col debito comune europeo, che costa meno, costa meno per tutti e che può essere spalmato con titoli da, ovviamente, adempiere, da pagamenti adempiere dilazionati nel tempo, perché è chiaro che l'Unione Europea tutta insieme è molto più forte di qualsiasi singolo Stato. E che cosa significa Energy Recovery Fund? Significa, ad esempio, garantire una maggiore diversificazione degli approvviggiamenti? Significa addirittura piani di stoccaggio comune? Noi abbiamo una grandissima capacità di stoccaggio. Mettendo a fattor comune un progetto energetico globale a livello europeo, noi possiamo affrontare questa crisi e possiamo rispondere rispetto a misure che andremo a prendere sul piano interno, che sono state anche anticipate, andando, per esempio, anche a tassare gli extraprofitti, andando a realizzare un piano immediato, massiccio, di investimento in fonti rinnovabili. Noi davvero possiamo raggiungere l'obiettivo, per noi assolutamente essenziale, dell'autonomia e della diversificazione per quanto riguarda le fonti energetiche di approvvigionamento, non solo per l'Italia, ma nell'Europa, perché noi abbiamo qui in Italia una visione che vogliamo condividere con tutti gli altri amici, con il popolo europeo. Ancora, scorporo degli investimenti green nella ricerca, nella sostenibilità. Non c'è solo una filosofia, quella che è la nostra filosofia, una cultura integralmente ecologica. Adesso si tratta di anticipare per necessità quelli che sono questi obiettivi che abbiamo già definito. E poi, ancora un altro aspetto. Noi dobbiamo anche, perché la mozione è ben articolata e ben esprime, è una complessiva filosofia e prassi di azione. Noi dobbiamo anche coinvolgere, ovviamente, la BCE in questo progetto, perché è chiaro che la BCE deve gettare acqua sul fuoco. La BCE deve rivedere la sua politica monetaria. È il ruolo della BCE fondamentale nei nuovi programmi di acquisto di titoli di Stato. e sicuramente la BCE ci può dare un contributo assoluto per non far pesare il debito accumulato sulle future politiche di investimento europeo, sulla politica dei tassi di interesse, può intervenire e anche, ovviamente, può contribuire ad alleggerire quel debito pandemico accumulato, in modo che non pesi sulle generazioni future. Lo Stato, per il Movimento 5 Stelle, non è e non sarà mai invadente nell'economia, nella maniera più assoluta. Lo Stato, però, deve essere presente, soprattutto quando necessario. La stagione che stiamo affrontando ci porta a rivendicare, per lo Stato, anche un ruolo di orientatore, lo dico, dei mercati, un ruolo sapiente, di promotore del coinvolgimento anche dei privati nel conseguimento di obiettivi di interesse comune nel campo sanitario, delle politiche del lavoro, dell'occupazione, nel campo della protezione sociale, della giustizia sociale, che è sempre un obiettivo che dobbiamo avere presente, della tutela dell'ambiente. Ecco, questo non significa arrivare a un dirigismo economico di vecchia maniera, così come, ad esempio, l'abbiamo conosciuto in Italia nel periodo fascista. Però significa prendere atto che le tendenze neoliberiste, che hanno poi trovato attuazione nelle politiche economiche eseguite dagli Stati occidentali, ancora molto in voga oggi, non hanno dato frutto, anzi, hanno dato frutti negativi. E quindi qui occorre coraggio, occorre coraggio e azione, occorre che il nostro governo si predisponga in questa linea, si faccia sentire con autorevolezza in Europa e l'Italia, posta dall'Italia, si possa irradiare e possa essere il centro di questa politica economica sociale di cui abbiamo assoluta necessità. Rinforziamo le strutture pubbliche, le amministrazioni pubbliche, dotiamole di quelle competenze digitali necessarie, non impoveriamo gli asset pubblici, gli asset strategici, non solo per la crescita economica, ma per lo sviluppo sociale del Paese. Abbiamo dei precisi doveri nei confronti delle future generazioni. Grazie.